Avvocato Tortorella, la Corte di Cassazione sezione lavoro con l'ordinanza interlocutoria 821 del 2020 ha cambiato un po' le cose, c'è qualche novità? Cosa comporta questa nuova ordinanza? Sì, la questione è relativa agli iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'83. Si era posto il dubbio in passato se questi avessero diritto all'adeguata remunerazione e quindi al risarcimento del danno per la mancata attuazione di direttive. La questione era già andata alla Corte di Giustizia Europea, così trasmessa dalle sezioni unite della Cassazione, che avevano dichiarato che anche gli iscritti prima dell'83 avevano diritto all'adeguata remunerazione e quindi al risarcimento del danno, ovviamente per le frequenze dal 1 gennaio 83 in poi. Indipendentemente dalla data di iscrizione al corso. Era sorto un contrasto interpretativo di questa sentenza, se cioè avessero diritto all'adeguata remunerazione solo gli iscritti nell'82 o anche gli iscritti precedenti all'82, con questa ordinanza di un ricorso che abbiamo seguito noi è stata accolta la nostra tesi per la quale la sentenza, una corretta lettura della sentenza della Corte di Giustizia Europea estende il diritto a tutti gli iscritti, indipendentemente dalla data di iscrizione, ovviamente che acquisiscono il diritto all'adeguata remunerazione del 1 gennaio 83 in poi e quindi visto che c'è un dubbio interpretativo su questa questione, ha rimesso la palla al primo presidente della Cassazione perché rinvii la questione alle sezioni unite che poi dovrà decidere e fissare il principio di diritto. Le sezioni unite potrebbero assumere una decisione, noi ci auguriamo e pensiamo secondo quello che è la nostra interpretazione, quindi più estensiva, oppure rimettere nuovamente la Corte di Giustizia perché si pronunci nuovamente su questa questione. Quindi in sostanza cosa cambia per chi ha già fatto ricorso o per chi deve fare ricorso o che sta ancora battagliando in appello o in Cassazione? Questa questione riguarda tutti gli iscritti ai corsi di specializzazione prima dell'83, indipendentemente dalla data di iscrizione, che a nostro avviso possono reclamare quindi l'adeguata remunerazione e il diritto al risarcimento. Noi pensiamo e sosteniamo che tutti gli iscritti ai corsi di specializzazione, indipendentemente dalla data di iscrizione ai corsi abbiano diritto all'adeguata remunerazione e quindi al risarcimento, ovviamente per le frequenze dal 1 gennaio 83 in poi. E quindi tutti questi che hanno in corso una causa o che intendono introdurre un giudizio per questa adeguata remunerazione hanno un elemento ulteriore di consapevolezza e di speranza per poter veder riconosciuto il loro diritto. Grazie. Grazie a tutti.